Esonerato Giovanni Masecchia, al suo posto torna Antonio Foglia Manzillo. Notizia ufficiale comunicata pochi minuti fa dalla società Rosso Blu. Nel summit di ieri pomeriggio non era arrivata la decisione sul secondo cambio in panchina. Evidentemente questa mattina i dirigenti del Campobasso hanno ritenuto opportuno interrompere il rapporto con Masecchia e richiamare Foglia Manzillo. Scelta saggia, considerato che il tecnico era a libro paga dopo l'esonero avvenuto un mese e mezzo fa. Inoltre Foglia Manzillo conosce già l'ambiente e la gran parte della squadra, considerato che diversi elementi presenti un mese fa sono andati via con arrivo ovviamente di altri tesserati. Davvero negativo il percorso di Masecchia che ha raccolto solo due punti sui 15 a disposizione. Questa serie nera è costata una discesa in classifica netta. Il Campobasso nell'ultimo periodo ha visto non solo allontanarsi in modo definitivo le prime della classe, che va detto ad onore del vero stanno avendo un passo veramente deciso, in particolare il Matelica che ha ottenuto 41 su 48 punti disponibili, ma anche arrivare il gruppone di centro classifica per l'attuale settimo posto in compagnia di Francavilla e San Giustese. Non è provocatorio dire che in caso di sconfitta nella gara di domenica prossima a Iesi, ovviamente, ci auguriamo il contrario, bisognerebbe pensare al nuovo obiettivo, quello della salvezza. In quest'ottica dobbiamo dire che Masecchia ha comunque delle attenuanti. Sicuramente il cambio netto dell'ossatura della squadra non è facile lavorare in un periodo breve con otto uscite e sei ingressi nella rosa. Di certo anche il calendario non ha aiutato, gli scontri con le prime tre della classe e con l'Avezzano, squadra in grande forma, sono arrivati probabilmente nel momento peggiore. È vero, altresì, che lo stesso Masecchia ha troncato nettamente il rapporto con le idee tattiche di Manzillo, che avevano portato risultati per introdurre delle nuove, che al contrario non hanno prodotto né gioco, né punti, né risultati. La classifica è, come sempre nel calcio, la legge per eccellenza, un dogma dal quale non si può prescindere. E i numeri dicono che il campo basso tra le prime dieci del girone F è la squadra che ha segnato di meno solo 17 reti, stesso dato anche per i gol subiti. Una sterilità offensiva che non è stata risolta, almeno per il momento, con oltre la metà delle reti totali realizzate da D'Agostino. L'attaccante al momento sta vivendo una flessione che sostanzialmente ci sta, anche in considerazione del cambio di ruolo in più di una circostanza e del modo di giocare. A questo punto un ritorno che può far sicuramente bene alla squadra e anche all'ambiente. Foglia Manzillo gode di ottima stima nella campo basso sportiva. Un impatto, si spera, importante da subito, considerata la valenza della sfida contro la Iesina. Di certo la società ha dimostrato carattere. Gli errori si possono fare, importante è ravvedersi e tornare sulle proprie decisioni con intelligenza. Questo è un percorso di crescita necessario se si vuole puntare anche un domani ad un progetto ambizioso. In chiusura, notizie dal girone F. Andrea Orecchia non è più il tecnico del San Marino. La società della Serenissima Repubblica si è affidata al nuovo trainer Filippo Medri per mantenere la categoria. Orecchia lascia comunque la squadra a quota 21 con più 4 sulla zona play out.